Musica Anteprima della puntata numero 383 di Restiamo Animali la trasmissione che vi porta i fatti, le voci e le opinioni della galassia animalista, antispecista e vegan in onda a partire da sabato 3 giugno Una puntata in cui la nostra super inviata Roberta Marino si è mobilitata e mescolata ai manifestanti della manifestazione che c'è stata il 27 maggio Roberta infatti ci racconterà da dentro la manifestazione nazionale contro gli zoo che si è tenuta a Torino Parleremo poi di un film e di un libro in difesa del cibo Ma quale cibo? Lo scoprirete se ascolterete la trasmissione che andrà in onda da partire da sabato 3 giugno Cibo sì, ma non solo sulla carta La filosofia non ci sfama Camilla Poi ora arriveremo a dire che con la cultura non si mangia E guarda come si è ridotta Keep calm cara Volevo solo introdurre la ricetta piemontese della settimana che fa pandan con il corteo Notizie dalla galassia animalista che riguardano selvatici sentenze storiche ma non esemplari per animalicidio Ma ci sarà spazio anche per una notizia che riguarda la famiglia Trump e buona musica per condire il tutto www.restiamanimali.it per riascoltare il programma Ma ci potete anche seguire su Facebook e su Twitter Senti c'è la ibanca dice che non vesti bene